Una passeggiata con Leonardo da Vinci è in programma nel castello di Sommalombardo il 1 e 2 luglio grazie a un evento evocativo, suggestivo, ad alto tasso culturale, adatto a grandi e piccini giocato sull'ironia ma anche su una rigorosa ricerca storica in cabina regia, ancora una volta, quelli del 63 alle prese con un itinerario tra le tappe del genio La bottega del Verrocchio, il Leonardo a Milano da Ludovico il Moro poi avremo degli studi, gli studi sull'acqua, gli studi sulle macchine da guerra e infine l'anatomia, poi ci sarà il Cenacolo e per finire l'arrivo a Milano del Re di Francia che incontrerà Leonardo per la Gioconda Gli attori sono già entrati in parte Io personalmente mi sono immedesimato nel personaggio Ma non è tutto perché grazie al comitato eventi del castello sarà possibile visitare per la prima volta angoli inediti del maniero Facendo dei giri ad hoc dove si parla dei collegamenti che ci sono tra Leonardo e il castello Visconti di San Vito di Sommalombardo